Voglio salutare studenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Roma. Benvenuti in Senato. Lascio la parola al senatore Gasparri. C'è un limite anche alla polemica e alle bugie. Francamente riproporre questa mattina 340 emendamenti non è che avesse molto senso. Si fa la procedura pretestuosa, ostruzionistica e il governo fa bene a mettere la fiducia. Perché Caivano è urgente, perché la legalità è urgente. Molto più dei vostri giochetti pretestuosi in aula. Non venite qui a dire bugie. Allora leggetevi il decreto. Siete talmente impegnati ad abbaiare che non avete tempo di leggere. Questa è la verità. E non ha fatto... Presidente Gasparri, le chiedo abbaiare. Benissimo. Ho già ripreso il presidente Gasparri sull'affermazione e annuito, e annuito. Di conseguenza per me la situazione è già ripristinata. Accetto il suo richiamo, mi scuso. Volevo dire urlare, ho sbagliato. Urlare si può dire, grazie. Un genitore che sottrae il figlio alla scuola va punito severamente. Non va incoraggiato come vorreste voi. Qualcun altro ha detto le passerelle. Bugiardi, si può dire. Voi vorreste risolvere Caivano dando a quei ragazzi la droga. Ma chi governava Caivano? Chi è il presidente della regione Campania? Chi è? Chi è? Non è governata. È del vostro partito, dissidente. Ma dal PD viene. E allora scusatevi per l'inerzia del PD e di De Luca che nulla hanno fatto per l'emergenza a Caivano. Potremmo parlare anche di Gualtieri che ha fatto il sindaco contro voglia e dovrebbe occuparsi di altre periferie a Torbella, Monache e altrove. Siccome sono anche un cattolico, pensate un po', se la cosa vi disturba a me non mi importa granché. Ci sono stati e ci sono i Don Patriciello e i Don Coluccia che fanno quello che i De Luca e i Gualtieri non fanno sul territorio. Mentre invece Don Vincenzo sta a Salerno o non so dove sta. E intento forse a designare parenti in giunte e parlamenti. Quindi la mala fede ha un limite, cari colleghi. Capisco che non avete letto il provvedimento. Dopodiché se il provvedimento non piace a Saviano ce ne faremo una ragione. ha detto che va via dall'Italia e resteremo in numero sufficiente per mandare avanti questo paese. Io poi di questi partenti che restano in Italia ne leggo tanti. Appena vince il centrodestra c'è un elenco di annunci partenze. Vado via, c'era Berlusconi, vado via, c'era Meloni, vado via ancora prima. Poi restano tutti qua e noi siamo contenti. restino qua perché questo paese è governato meglio e converrà anche a loro stare in Italia. Poi se vogliono andare via, ognuno è lì, si muovono tutti, clandestini, turisti, italiani, stranieri. Chi vuol viaggiare viaggi, chi vuol restare resti. Quindi io mi auguro che restino perché è bene stare in Italia. L'Italia è un gran bel paese. Presidente, i richiami valgono solo per me o valgono anche per loro. Ma io sono esperto d'aula, quindi non è che mi spavento, insomma, no? Ci attendiamo delle proposte e delle puntate di report. È una legislatura della verità, della trasparenza e della legalità. E qualcuno vuole la droga legale e la stesa tollerata. Noi siamo per la legge, l'ordine, l'educazione, la scuola, l'obbligo scolastico. Chi vuole restare in Italia, resti, anzi, faccia venire gli amici. E chi se ne vuole andare, vada, Forza Italia, vota a favore. Mi scuso con il senatore Gasparri se prima non ho interrotto i colleghi, ma la questione dei partenti mi ha fatto ridere, quindi mi scuso. Ma io, Presidente, proprio a lei volevo rivolgermi. Per condividere con lei sono certa, comprenderà la difficoltà che provo in questo momento a dover parlare di un tema così delicato, così doloroso, così profondamente sentito dopo il Presidente Gasparri, che ha dato dei cani sostanzialmente all'opposizione perché ha detto che abbagliano e non contento e ha dato a noi degli spacciatori dicendo che diamo la droga ai ragazzi. Io ho serie difficoltà a parlare dopo il Presidente Gasparri che si è detto esperto d'aula, ma in realtà è esperto di insulti sapendo di poterla passare liscia perché ha l'immunità parlamentare e allora attraverso di lei, Presidente, mi permetto di consigliare come ha fatto il nostro senatore Scarpinato al Presidente Gasparri di rinunciare all'immunità parlamentare e poi vediamo se continua ad essere così esperto di insulti.